signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai e il vostro ospite su questo canale quando più di vent'anni fa oramai ero un giovane master kai e avevo meno ragione quando stavo ancora imparando a masterare mi fu detta una massima non affezionarti al tuo mondo di gioco è lì per essere distrutto ora dopo vent'anni devo ammettere che all'inizio io non capì quello che mi si stava dicendo vediamo se io in questo video riuscirò a spiegarvi quello che ho capito negli ultimi anni proprio per evitarvi di fare la figura del pirla un sacco di volte questo video io l'ho scritto per evitare che dire venti urrante però adesso che lo sto rileggendo non credo di esserci riuscito anzi cominciamo ripetendo per l'ennesima volta qualcosa che oramai dovrebbe essere scontato ma ripetita iuva il mondo di gioco esiste esclusivamente per essere il luogo immaginario all'interno di cui si svolgono le avventure del party magari voi avete passato mesi a progettare il vostro mondo di gioco a ragionarci sopra a fare collegamenti e contro collegamenti trovare giustificazioni ricostruire interi blocchi di regole e scrivere centinaia di pagine di testo su tutta la storia la geografia politica e i vari abitanti di questo mondo non prendete questo discorso con un iperbole io ho letto un sacco di cose che alcuni degli iscritti mi hanno mandato e lì in mezzo c'è la roba che poteva benissimo essere un modulo ufficiale per un gioco di ruolo in commercio rimane comunque il fatto che il mondo esiste solo perché lì dentro si svolgeranno le quest e per via della natura del gioco di ruolo il party ha la capacità di influenzare l'ambiente all'interno di cui si muove potrebbe farlo in maniera molto limitata potrebbe portare a cambiamenti radicali ma entrate nell'ottica che una volta che la vostra quest comincia il mondo di gioco sfugge dal vostro controllo ed è inesorabilmente destinato a cambiare nel corso della campagna per quanto è possibile che i vostri giocatori vadano influenzare anche la fisica o la geografia del nostro mondo soprattutto se hanno accesso a alti livelli di potere o a una grande quantità di risorse quelli che qui stanno pensando a un mago di alto livello di dnd vuol dire che non hanno idea di cosa può fare anche una minuscola astronave che decida di lanciare grossi sassi sulla superficie di un pianeta probabilmente la cosa che più facilmente verrà influenzata dai personaggi giocanti al corso della quest è l'organizzazione sociale quasi sicuramente i giocatori decideranno che uno dei gruppi interessi una delle fazioni all'interno del vostro mondo è la loro fazione preferita e cercheranno di fare in modo che quel gruppo diventi molto più potente e influente di quello che è già questo potrebbe benissimo essere un evento preventivato ovviamente se la quest prevede che gli avventurieri siano alleati con le forze di polizia per sconfiggere la banda criminale è probabile che entro la fine di quell'arco narrativo la banda criminale vede il suo potere molto ridotto ammesso che esista ancora e la polizia veda il proprio aumentare non date però scontato che questo si limiti solo al fatto che qualcosa sia già previsto nella quest o che si limiti a fazioni elementi minori il party che decide di il barista gli sta simpatico vuol far diventare il suo bar più grande della città in un'ambientazione magari in cui gli interessi politici ed economici siano dominanti il muoversi del gruppo potrebbe causare gli scompensi che non sono immediatamente evidenti nella quest di cyberpunk nel momento in cui i personaggi riescono finalmente a mandare in rovina la megacorporazione malvagia per loro sia un grande movimento di festa ma questo nell'ambientazione vuol dire centinaia se non migliaia di persone che perdono il lavoro crollo la produzione industriale e un vuoto di potere che potrebbe scatenare una guerra con altre megacorporazioni aver sconfitto il loro nemico potrebbe causare il collasso dell'intera struttura sociale per quell'ambientazione che loro se ne rendano conto o no anche senza bisogno dell'intervento diretto dei personaggi giocanti potreste accorgervi da soli o magari i giocatori potrebbero farvi notare che qualcosa che era stato inizialmente inserito previsto per il mondo di gioco adesso la campagna si è sviluppata semplicemente non è più né tematicamente così rilevante o magari direttamente stona con tutto quello che è stato detto finora magari inizialmente voi prevedevate di fare una campagna di quasi puro dungeon delving con gli eroi che entrano quest per quest in antiche tombe in cui sconfiggere morti e trappole magari legate dal tema di un'antica civiltà oramai scomparsa e poi avevate inserito qualche elemento di politica attuale al mondo di gioco giusto per fare colore dare un po di verosimiglianza ma la quest doveva focalizzarsi tutta sull'esplorazione delle antiche tombe in realtà poi giocandola vi siete resi conto che ai giocatori la parte di andare a fare i tombaroli non è che interessi così tanto magari anzi alla lunga gli ha annoiati ma hanno cominciato a interessarsi attivamente a queste vicende politiche avevate accennate del grande regno che c'è al di sopra delle tombe in una situazione del genere potreste anche non essere bene accorti voi magari proprio i giocatori vi hanno detto senti ma sta cosa di andare a esplorare i dungeon dopo un po' ha rotto non possiamo andare in città avevi detto c'era una cosa col principe no dai andiamo ad aiutare quel principe sembrava uno simpatico per quanto sia stato accurato il vostro lavoro sulla pianificazione delle tombe dell'antica civiltà e di quello che è evidentemente per questa campagna l'idea non funziona se l'idea non funziona l'idea va cambiata potreste cancellare tutto iniziare con una nuova campagna ma potreste anche ridimensionare l'importanza di questa antica civiltà e le tombe e cominciare ad aggiungere elementi e riempire di dettagli la vicenda politica sembra interessare così tanto ai giocatori anzi vi converebbe fare quest'ultima cosa perché in questo caso sapete già che quella vicenda interessa ai giocatori cancellando tutto ripartendo da zero da una parte i giocatori perderebbero i loro personaggi e questo di per sé sarebbe da evitare in più non avete altuna certezza che la vostra nuova storia possa interessarli di più di quella vecchia comunque per quanto voi foste affezionati alla vostra idea dell'antica civiltà e le tombe l'idea non funziona l'idea va cambiata un'ultima cosa che io ritengo molto importante ho visto molto spesso gente mettersi nei guai da sole per questo motivo dato che creare un'ambientazione è un'impresa che richiede un grande sforzo molto tempo e molto spesso anche per valore affettivo ognuno è legato alle proprie ambientazioni molti master tendono a riutilizzare il materiale già preparato per vecchie campagne di per sé questo è un fatto molto positivo al di là di ridurre molto i tempi di lavorazione per la quest se il master conosce già l'ambientazione magari perché ci ha già giocato per anni all'interno gli risulterà molto più facile reagire a quello che fanno i giocatori conosce l'ambientazione così bene magari ha già visto altri giocatori fare cose simili nel caso i gruppi di gioco siano diversi potrebbe anche riproporle non solo l'ambientazione ma anche l'intera storia che c'è dentro ricordate però che quando un'ambientazione viene creata e poi le modifiche che subisce durante l'arco di una quest o di una storia o di una campagna quello che è molto spesso sono fatte per venire incontro a delle necessità del party o a delle motivazioni tematiche che avevano a che fare con la prima installazione di quell'ambientazione non date per scontato che l'ambientazione in cui cinque anni fa quel gruppo di gioco si è divertito così tanto a fare quest horror possa avere lo stesso impatto adesso su un altro gruppo di gioco che faccia quest action adventure molto poi in mente una buona parte l'ambientazione può essere riciclato ma ci saranno elementi che se spostati anche con la stessa storia ma con un nuovo gruppo di gioco non funzioneranno per quanto due campagne possano partire anche da premesse identiche non esistono due campagne uguali perché giocatori diversi o anche gli stessi giocatori in momenti diversi faranno scelte diverse questo porterà rapidamente i due mondi a divergere e in modi che probabilmente non possono essere riconciliati non cercate di forzare le cose che sono già successe o non cercate di forzare elementi che con la quest che state attualmente giocando non c'entrano nulla magari voi avevate inserito una antica foresta dove vivono gli elfi perché avevate un party in cui c'era un personaggio elfo che veniva da un'antica foresta ma nell'attuale party non c'è nessun elfo da un'antica foresta ma c'è un nano che viene dalle montagne avere la foresta e non avere le montagne è un disservizio al party togliete quella foresta e sostituitela come una montagna la cosa a cui molti sembrano non pensare è che la coerenza interna vale solo all'interno dello stessa storia ma non avete vincoli di coerenza tra una campagna e l'altra nonostante in quel mondo voi avete già ambientato una campagna quando ce ne ambientate una seconda quello che è successo della prima campagna non c'è alcun motivo perché debba essere rispettato non fatevi intrappolare dal vostro stesso canon ricordatevi il mondo di gioco non esiste e la sua unica funzione è quella di ospitare la quest ai giocatori diciamo che per questo video è tutto sono andato lunghissimo e metà di quello che vi ho detto in realtà non sta neanche sullo script tanto voi non potete farci niente spero comunque che il concetto sia passato non fatevi imbrigliare dal vostro stesso canone mentale il mondo di gioco è uno strumento se quello strumento non funziona lo strumento va buttato o cambiato adesso sta a voi scrivetemi nei commenti se vi è capitato mai dover riscrivere un mondo in corso d'opera o se non l'avete voluto fare come è andata a finire la situazione ovviamente scrivete anche se avete eventuali domande dubbi perplessità settimana prossima dovremo ritornare di nuovo con il d20 system in seguito forse ci sarà un video un attimo speciale ci sto ancora lavorando nel caso comunque se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo credo a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master kai noi ci vediamo nel prossimo video